Non soltanto Pastore però, perché questa domenica ci ha regalato tanti protagonisti, per esempio c'è Krasic, che vi mostriamo in queste immagini allo Juventus Store di Via Garibaldi a Torino, dove è stato letteralmente preso d'assalto il giocatore e lo store, ovviamente proprio per l'arrivo del Servo, che ieri tra l'altro ha giocato una delle sue migliori partite dal arrivo. Si è presentato intorno alle 16, c'era tantissima gente, oltre 200 persone per vedere da vicino, per cercare di raccogliere qualche autografo.